Continuano i controlli a tappeto al Parco Verde da parte dei carabinieri della Compagnia di Caivano, perquisizioni in diverse zone con molti militari impiegati, tra i quali anche quelli dell'aliquota di primo intervento. Controlli che hanno portato a quattro arresti. Si tratta di tre incensurati, sono un 22enne di Caivano, un 38enne di Succivo e un 36enne del posto e del 26enne Raffaele Vitale, uomo del posto già noto alle forze dell'ordine. Il blizio è scattato in tarda serata e i militari di Caivano avevano individuato un appartamento posto a primo piano addibito a piazza di spaccio. Non è stato semplice accedere al fortino ed è risultato fondamentale il supporto delle aliquote di pronto intervento che con le loro attrezzature hanno permesso di stanare i quattro. Due le porte blindate con vetri di antisfondamento che con l'ariete sono state abbattute. Una volta entrati i carabinieri hanno trovato un nuovo ostacolo, un'altra porta blindata. I quattro però non avevano possibilità di fuggire perché la loro unica via di fuga posta sul retro era presidiata da altri carabinieri e quindi non hanno potuto fare altro che arrendersi non prima di gettare nel water la droga che stavano confezionando. Questo non li ha salvati però dall'arresto per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri inoltre durante la perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato diverso materiale per il confezionamento, radiotrasmittenti, sistemi di videosorveglianza e cellulari. Grazie 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 Grazie